Buongiorno, mi trovo a Pregassona, vi mostro oggi un appartamento di due mezzo locali a piano terra in una residenza di recente costruzione. Allora entriamo, abbiamo una porta blindata e di qua si sviluppa l'appartamento. Abbiamo questo bel corridoio lungo, completato anche di armati a muro. Abbiamo qua il bagno, bagno completo di bidet, water, portogolo non c'è luce. Abbiamo il mobile del lavabo con doppio cassettone, specchio e questo grande box doccia con porte scorretti. Inizia il bagno, appunto al bidet c'è anche la predisposizione per la lavatrice e asciugatrice privata dell'inquilino. Abbiamo l'interno dell'armadio muro, e speculare da questa parte, comodo, ampio, fino al soffitto, direttore, videocitofono, termostato. Anni locale ha anche il termostato, quindi si regola la temperatura per le serpentine. Questa richiesta deve essere comoda per esempio il televisore e anche le prese. e qua finalmente la zona giorno con la cucina e l'uscita poi sul giardino privato. abbiamo una cucina, cucina che è completa di piano cottura, quindi qua troviamo una lavastoviglie, molto grande, forno ad aria calda, colonna di frigorifero e congelatore a tre cassetti. Tutti gli electrodomestici sono di marca Electrolux. Bene, arriviamo ora dal giardino. Abbiamo l'uscita con porta scorrevole. Questa parte ho caperto, abbiamo ancora anche la robinetta, scusate, e l'uso elettrica. E questo è tutto il giardinetto. Molto bene. Grazie. Ti affitto.